La cooperazione rivolge un ruolo importantissimo nella nostra regione, uno dei fondamenti della regione Emilia-Romagna. Purtroppo negli anni però si sono persi quei principi e quei valori che erano stati inseriti anche all'interno della nostra Costituzione per far sviluppare il mondo della cooperazione. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un progetto di legge che vuole proprio ripristinare quei principi di mutualità che sono la caratteristica principale della cooperazione che è un settore che ricopre e riveste un ruolo importantissimo. In Emilia-Romagna ci sono migliaia di lavoratori e purtroppo ad oggi le situazioni sia dei lavoratori, sia dei soci prestatori e sia ovviamente del rapporto che c'è tra le dirigenze delle cooperative più grandi, la politica e la base societaria nel tempo è notevolmente cambiato. Il nostro progetto di legge vuole proprio ripristinare i vecchi valori, vuole vietare il cosiddetto meccanismo delle porte girevoli e vuole tutelare sia i soci prestatori che i lavoratori delle cooperative della nostra regione. Il testo che vi proponiamo affronta proprio questi temi, va a modificare una vecchia legge regionale già esistente e ovviamente come sempre fa il Movimento 5 Stelle aspettiamo i vostri commenti, le vostre proposte per migliorare quella che è la nostra proposta di modifica. Grazie a tutti!